E vedete, in questo periodo si sono anche succeduti tanti cambiamenti politici. Sono cambiati sindaci, sono cambiati presidenti di regione, sono cambiati ministri, sono cambiati governi. E voi sapete che l'Italia poi ha un record mondiale nella velocità di cambiamento dei governi. Un record che volentieri io vorrei che noi cedessimo a qualche altro. Comunque, nonostante tutti questi mutamenti, abbiamo lavorato insieme, nello stesso spirito, con forte senso dell'interesse nazionale.